La città di Agropoli va verso la realizzazione di una città intelligente, Smart City, infatti queste rappresentano l'ultima tendenza in fatto di pianificazione urbanistica tesa a migliorare la qualità della vita. Le moderne tecnologie infatti consentono di concepire soluzioni di arredo urbano tecnologicamente avanzate che consentono di rispondere all'esigenza di decoro urbano e allo stesso tempo di fornire servizi ed utilità alla cittadinanza. In relazione alle dinamiche della cosiddetta Smart City senza peraltro gravare sui bilanci comunali in considerazione della possibilità di installare spazi pubblicitari e nel contempo rispondere ai principi dell'efficacia, dell'economicità e dell'efficienza si possono perseguire primari obiettivi quali tra gli altri la promozione del territorio e la fornitura di servizi tecnologicamente avanzati. Per questi motivi l'amministrazione comunale di Agropoli, retta dal sindaco Adamo Coppola, acquisirà manifestazione di interesse per favorire la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per il comune che prevede all'installazione a titolo gratuito per l'ente di realizzare un sistema di arredo urbano che prevede la fornitura di posizionamento in luoghi ritenuti idoni di impianti di arredo urbano con funzioni tecnologicamente avanzate come ad esempio panchine, dissuasori, transenne e parapedonali e segnaletica direzionale interattiva di cui talunni con telecamera orbitale in relazione alle dinamiche della cosiddetta smart city ed altre tipologie di manufatti con annessi spazi pubblicitari purché sempre esteticamente rispondenti alla tutela del decoro e volti non solo a trasmettere un messaggio pubblicitario ma principalmente di pubblica utilità per la cittadinanza.